Honda annuncia il richiamo di quasi un milione di veicoli su scala internazionale per problemi agli alzacristalli elettrici. L'operazione, di cui non sono stati resi noti i costi, riguarda soprattutto modelli fit venduti sul mercato interno e su quello asiatico, statunitense ed europeo. Già all'inizio di agosto, il gigante nipponico dell'auto era stato costretto al richiamo di oltre 2 milioni di pezzi per un difetto al cambio automatico.